ciao popolo eccome qua era un pochetto non ci rotevamo allora oggi parliamo dei movimenti in affilatura non facciamo il trattato su tutti i movimenti possibili e immaginabili anche perché poi c'è anche l'angolino della polemica facciamo una netta distinzione tra i movimenti basici per lame per fili che non hanno nessun problema e movimenti invece più idonei per fare delle correzioni per fare una filatura correttiva sul sul rasoio scusate ma prima mattina comunque come al solito dopo la sigla eccome qua io intanto me la spippettavo perché approfitto allora vado veloce lo voglio fa corto lo dico tutte le volte non ci riesco mai ma stavolta ci voglio riusci proprio anche perché per molti sarà un video inutile per qualcuno magari potrà essere spunto per qualche riflessione e per qualcun altro l'angolo della polemica mo tengo alla fine per qualcun altro se ne ha capito fino a mo non lo capisce più allora innanzitutto prima di parlare del movimento dobbiamo parlare un attimo delle pietre allora l'ho detto un miliardo di volte ma non non è mai sbagliato ripeterlo e pietre devono essere perfettamente lappate noi dobbiamo essere sicuri di lavorare su un piano anche perché il primo movimento quello che io di solito non consiglio mai ma c'è sempre per capacchione che invece lì cericate il movimento l'unico movimento giusto da fare è aspettate prendo una pietra che manca a farla apposta che casualmente l'ho presa bianca c'è quello petta del rasoio è quello giù dritto 90 gradi rispetto alla pietra me sa che qua a me conviene vediamo un po cambiamo subito inquadratura tanto noi ci vediamo lo stesso lì alla finestrella eccolo qua aspetta ma vicino la pietra è quello 90 gradi rispetto alla pietra è giù dritto purtroppo per molte persone e purtroppo per persone che vogliono dare consigli l'unico movimento da fare corretto è questo 90 gradi e io adesso ho scelto una pietra bianca perché mo la sminchio pure un attimo questa è la 3000 della nanon dico vabbè noi partiamo dal presupposto che questo sia guardate il pennare la matitazza noi partiamo dal presupposto che questo sia un piano perfetto ma che cosa succede lo metto qui che si vede se qui c'è un piccolo avvallamento io adesso ho fatto un disegnino ma se l'avvallamento minimo neanche si vede occhio nudo uno pulisce la pietra gli dava una sciacquata dice vabbè tutto sommato la pietra sta bene neanche la controllo per una filatura va bene così e magari ne metto da un po un punto dove si vede ok è un altro punto qui la pietra è scura la pietra non si vede cioè non si vede eventuali difetti per me è un piano ma piano non è o quantomeno non piano perfetto perché queste aree io ho segnato possono avere una profondità diversa da solo leggermente accennate quasi indistinguibili neanche al passaggio colpo col pastello ma possono avere anche una loro profondità e su una pietra da impostazione da bisellatura come questa i danni sono tanti se il movimento viene sbagliato guardate che cosa succede se io passo con seguendo il consiglio sbagliato al solo lama 90 gradi e movimenti rettilinei io passo sopra a questo punto questo abballamento in quel punto il filo non sta toccando per cui tocca da qui a qui poi riprende da qui a qui c'è un punto in cui il filo non tocca sulla pietra se l'incavo è molto profondo ma anche se l'incavo è leggermente solo accennato in questo punto ci sarà meno pressione in quest'area riprendo la matita in quest'area ci sarà meno pressione rispetto a queste due aree dove c'è maggior contatto e via discorrendo poi a un certo punto qui il filo ritocca tutto quanto vado verso la fine del movimento eccolo lì un'altra bella area dove il filo non sta toccando quindi capite bene che fare centinaia di volte questo movimento porta ad un'usura disomogenea del filo quindi una sportazione disomogenea del materiale e se siamo in bisellatura questa ripeto una 3000 la bisellatura viene male è un errore in bisellatura se porta avanti fino in finitura stessa cosa se io parto col 45 gradi e vado giù il rettilineo vedete sono diverse le aree rispetto a prima adesso tocca guardate diciamo ecco mi metto così all'altezza della a di dollar se mi mettevo in verticale qui già stavo verso le l quindi cambia il punto di non contatto ma il principio è lo stesso quasi è spostato verso la punta se andavo giù i rettili e con l'angolo di 90 gradi l'area si spostava un po più verso il centro il centro la ma il principio è lo stesso quindi non è tanto il problema del inclinazione diciamo pure che il 45 gradi aiuta sia perché il polso è in una posizione più naturale rispetto a dover lavorare guardate con il polso piegato è diciamo una posizione di polso molto più naturale che aiuta i movimenti ma il problema vero è questo è andare giù il rettilineo questo è il problema come si risolve si risolve semplicemente con questo tipo di movimento guardate dopo di che si risolve col 45 gradi guardate che cosa succede quando io passo in diagonale sopra l'area che non è perfettamente piatta è vero c'è un punto che non tocca ma questo punto cambia lo vedete quindi l'errore viene distribuito lungo tutto il filo non c'è solamente un punto del filo che viene mortificato e lì si fa il danno sul bevel perché quel difetto della pietra praticamente va a incidere su un'area molto più grande la vedete per cui alla fine si riesce ad affilare lo stesso anche se la situazione della pietra non è ottimale ci siamo quindi primo movimento da non fare è il movimento sempre monotono parallelo alla lunghezza della pietra sempre meglio mettersi comodi con il polso dopodiché andare leggermente in uscita sia in un verso che nell'altro questo permette di mitigare non è che li elimina completamente comunque permette di mitigare eventuali imperfezioni eventuali errori dovuti imperfezioni della pietra quindi prima cosa da sapere anche perché ripeto pietre che poi mangiano molto una niva pro 3000 che però non sono bianche poi il difetto è ancora più difficile da vedere questa questa è questa è bianca scelta apposta o un attimo ero scordato se prende un pochettino d'acqua quindi primo accorgimento non andiamo giù il rettilino non facciamo sempre movimenti monotoni non affiliamo sempre facendo lo stesso percorso sulla pietra perché quel tipo di movimento è consentito solo e soltanto a pietra perfetta a piano perfetto ci sono stato dieci minuti dico spero che se sia capito per cui quando qualcuno va dicendo che noi siamo in video affiliamo facciamo vedere ma la maggior parte dei nostri movimenti addirittura sono stati definiti degli inutili fronzoli in bronzo la salata che prende c'è un motivo per cui uno alterna ovviamente facciamo anche un altro ragionamento altro come si dice scusate ho perso un attimo il filo di discorso altro movimento spesso usato anzi molto usato è il movimento a cerchietti ok c'è ma serve non serve ma perché allora io vi faccio subito approfitto del fatto che ci ho disegnato sta via dato poi mi toccherà rirapparla tutta questo è lo spazio percorso da un punto a aspettate lo so non si vede bene siccome si vede si vede a un punto b questa sarà una lunghezza questa distanza qua fix qualsiasi e visto che una retta è la via più corta che unisce due punti questo è il minimo della strada che può percorrere un filo su una pietra che succede se io faccio vabbè adesso lo disegno qua che c'è un po più di spazio un movimento a cerchietto praticamente è questo quello l'impronta che lascia il filo sulla pietra quindi sempre da un punto a sempre fino allo stesso punto b la distanza è la stessa ma voi provate a svolgere come se fosse una molla questo questa impronta lasciata dal movimento a cerchietti senza fare troppi ragionamenti si vede immediatamente che qui con movimento a cerchietti il filo è stato molto tempo più a contatto con la pietra che pietra e acciaio si sono toccati hanno fatto insieme tantissima strada in più nello stesso spazio dice vabbè qual è il vantaggio quello dico subito devo un attimo questa pietra e ne metto una molto più piccolina a vedere anche se già entra meglio nella nel supporto se ve ne metto una a fianco all'altro guardare da quella di sopra vedete che differenza che c'è ne metto sopra parallele in alto guardate ok ritorniamo qua giù da uno giugno tra l'altro quindi pietra dura che cosa succede che quando io ho una pietra non troppo grande la strada da fare è poca perché alla lunghezza massima della pietra toglieteci questo spazio iniziale quindi da qui a qui questo ieteci questi centimetri perché questo spazio mi serve per appoggiare il rasoio ok ma devo togliere lo stesso spazio anche quando cambio lato per cui anche qui devo togliere questo spazio quindi in realtà su una pietra del genere leva sotto leva sopra aspettate che mi si muove un attimino eccolo qua quindi devo togliere questo in alto e questo in basso in realtà lo spazio per affilare è da qui a qui cioè in realtà è solo questo quindi capite bene che facendo scegliendo un movimento anziché un altro prendo un movimento rettilineo leggermente ad uscire ma comunque faccio cinque centimetri ogni volta cambia rimetti cambia rimetti cambia rimetti cambia rimetti devo fare molte passate e ogni passata c'è dietro l'angolo un possibile errore non è che siamo delle macchinette degli automi che riusciamo tranquillamente a fare sempre gli stessi ovviamente non sbagliamo mai tutti sbagliamo un po capita sempre una distrazione subentra la noia ciancia le bande anche in questo caso il movimento a cerchietti mi aiuta perché a ogni passata corrisponde uno spazio maggiore percorso per cui riesco a diminuire il numero dei passaggi quindi per fare la stessa strada se io voglio che questo rasoio stia sulla pietra per cento metri qui dovrò fare mille passaggi col movimento a cerchietto ne farò 500 ne farò 400 a secondo di quanto è grande il cerchietto poi si ci sono le barzellette chi si è inventato l'otto quindi praticamente ho un passaggio controfilo e un passaggio a stroppo al ritorno io non li demonizzo a me vanno bene tutti anche perché se serve a mantenere viva la concentrazione se serve ad evitare la noia va benissimo va benissimo che siamo sempre là io torno sempre al capucchione della situazione che ha definito tutto il resto tutto quello che non è questo movimento sono inutili fronzoli ok e quindi io vorrei subito adesso accantonare il discorso della dei movimenti da fare a c'è un'ultima cosa da dire riprendo un attimo la pietra vabbè già che c'è sto riprendo questa che almeno sa più comoda allora io vorrevo ripeto passare ai movimenti ai movimenti correttivi adesso mi è venuta in mente un'altra cosa ma ci vorrebbe qui andiamo col video a un'ora io vedo tante cose ecco veramente dal controfilo c'è quello che invece sembra che sta scoramellando a fila solamente guardate ma veramente in questo modo e ve lo metto di traverso così si capisce meglio usa la pietra né più e nemmeno come si usa la coramella che è una cazzata strepitosa che è una cazzata strepitosa primo perché la maggior parte della pressione se la prende la costa questo è il modo migliore per spiattellare le coste perché è la costa che poi urta i vari abrasivi inglobati nella matrice e li fa e li fa saltare il filo invece lavora diciamo più protetto ma col fatto che lavora sempre a stroppi il ricciolo di bava molto più difficoltà a staccarsi per cui questo movimento non fa altro che spiattellare le coste e lasciare un bevel pieno di riccioli di bava e quando il bevele pieno di riccioli bava che non si staccano il rasoio in quel momento non si sta affilando quindi bisognerebbe fermarsi molto spesso ripulire il filo per ripartire capite bene non è che abbia molto senso scusate ecco è che abbia molto senso per cui andiamo tranquillamente contro filo mettendo le pressioni giuste e facendo i movimenti giusti a proposito i movimenti giusti cominciamo a vedere una cosa fino adesso abbiamo parlato di movimenti da fare con fili in buono stato anzi con rasoio in buona geometria per cui quando si va appoggiare sulla pietra c'è un buon contatto uniforme tra acciaio e pietra quindi abbiamo parlato di quello con pietre bella padre però andiamo aprire un attimo una finestra sulle affilature correttive la situazione ottimale non sempre si realizza quindi ci sarà sempre un rasoio magari vintage comprato usato che ha magari punta e tallone più consumati perché sono state usate pressioni sbagliate o il peggiore dei casi il famoso sorriso triste per cui c'è un consumo massimo al centro punta e tallone invece che se non metto qua che più grande punta e tallone con poca usura massima usura al centro quindi sorriso triste perché fa un arco coi due vertici che vanno verso il basso ma anche il contrario il contrario è più facile da sistemare non è mai una bella una buona situazione allora ci sono ce ne sono tanti o fondamentalmente ve ne dico due di modi partiamo dal più facile allora devo levare la pietra il più facile e non usare pietre grandi pietre larghe il più facile è questo usare questo tipo di pietra questa unica rasci ma il verso normale già sarebbe stata piccolina e questa però vedete io non ho lappato nessuno dei due lati io ho lappato un fianco della pietra per avere ancora una pietra ancora più stretta aspettate c'è il metro se l'avessi lappata su una delle due facce questa è una pietra guardate da 4 cm ok io invece l'ho voluto lappare sul fianco per renderla ancora più piccola guardate non è che ci abbia guadagnato poi molto sono sceso a 32 33 poi guardate non è perfettamente in piano qua un po di meno qua un po di più diciamo che al centro siamo a 3 cm e 3 quindi ho ridotto di quasi un centimetro perché perché con una pietra stretta in presenza di della necessità di dover correggere degli errori di geometria la pietra stretta mi consente aspettate ammetto un po più ecco la pietra stretta mi consente di lavorare per zone quindi ho una maggiore usura sui lati e una misura una minore usura al centro ok allora vado vado giù tenendo la maggiore usura di fuori e mi mantengo in questa situazione fino a che non sono riuscito a pareggiare se stessa cosa ma ragionando al contrario col sorriso triste quindi se ho tanta usura al centro e poca punta e tallone allora comincia a lavorare prima sul tallone e poi sulla punta non c'è possibilità di errore il resto del rasoio e poi il difficile è sempre comunque tenere in piano far baciare bene le parti a contatto di pietra e rasoio quindi sistemo sistemo controllo quando vedo lo scopo sta sempre la no so se lo siamo oggi quando vedo che c'è uniformità allora posso ricominciare a lavorare a tutto filo e vedete con i movimenti ad uscire anche con una pietra così stretta si riesce a lavorare a tutto filo si parte col tallone dentro adesso c'è solo il centro lama adesso c'è solo la punta per cui con una pietra stretta si lavora benissimo guardate meglio una pietra stretta e lunga che una pietra tozza che una pietra corta e larga che molto 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 più difficile usare quindi il primo sistema per una filatura correttiva e lavorare con pietre strette e lavorare a zone secondo sistema quindi riprendo sempre questa secondo sistema per fare le correzioni e non lavorare a zone ma fare pressione a zone allora innanzitutto vabbè vi evito tutta la parte del vedere se il filo tocca bene non tocca bene perché oggi facciamo un altro video apposta apposta guardate mi ero mi ero anche preparato vedere degli angoli di bevel 68 questo è un 20 millimetri per cui questo è la misura di un 6 ottavi che angolo c'è con un nastro con due nastri cioè senza nastro con un nastro con due nastri ma sinceramente ve lo lo rimandiamo un altro siamo a 26 minuti lo rimandiamo nato o quindi una volta che sono sicuro che comunque tutto il filo sta lavorando devo fare una correzione la correzione come la faccio dando pressioni differenziate attenzione che questa è difficile e si possono fare i danni la maggior parte delle persone sarebbero tentate di aumentare la pressione sul dorso ma intanto il dorso è la parte più rigida della lama se io faccio pressione anche se concentrata in un punto la pressione tenderà visto che qui è rigido tenderà a distribuirsi su tutto su tutta la lunghezza del rasoio sì qui ce ne sarà un po di più sì onestamente sì ce ne sarà di più ma verrà caricato tutto il dorso per cui ci sarà una grossa usura del della costa per fare delle minime correzioni allora il sistema qual è è pericoloso quindi non è per la persona alle prime armi che comincia ad affilare si accorge qualche cosa non va adesso ci penso io perché fare danni è un attimo una volta staccato l'acciaio una volta consumato l'acciaio non c'è se poi riappiccica più quindi io lo dico perché d'accordo i video per i principianti però c'è sanno pure quelli che hanno già principiato dopo posso roppero le palle sempre stesse cose quindi occhio che è pericoloso ok ritorniamo qua e allora la pressione dove la faccio la pressione prende in prestito la tecnica del coltello la vado a fare laddove mi serve usando la mano sinistra chiaramente le lame sono flessibili hanno la loro molatura vita una certa flessibilità per cui la pressione devo stare attento a gestirle con profili con molature full quindi molto scavate devo andare con la manina molto leggera quindi le pressioni devono essere ma molto leggere solo già l'appoggio delle due dita già è tanto già è sufficiente magari invece con molature piene con i near wedge con i quarter ollov si può esercitare una pressione maggiore quanta è una questione di sensibilità quindi ognuno deve conoscere la sua manona e non solo per fare certe cose quindi devo vediamo se riesco un attimo costa pietra che bianchiccia se riesco a far vedere una cosa allora diciamo che io c'ho il tallone indietro rispetto al resto quindi devo esercitare maggiore pressione qui quindi vado a mettermi vado ad esercitare una pressione mi dispiace che adesso sanno tutti questi segni di matita ma ci siamo guardate che cosa sta succedendo è chiaro che il filo ha toccato tutto ma lo vedete dove si è macchiata subito la pietra dove si è macchiata di più non è che il filo tocca solo qui il filo sta toccando tutto sulla pietra però qui ci ho appoggiate le mie due dita guardate che non sto facendo pressione sono solo in appoggio poi il gold dollar c'è un tipo di acciaio tipo di tempra molto morbida per cui guardate sono pochissime passate tempo che ho raccontato se due stupidaggini vedete quanto è più sporco su questo lato rispetto a questo quindi ho lavorato nella zona del tallone vediamo se sarà difficile prendere proprio l'angolo col microscopio ho ridotto parecchio gli ingrandimenti proprio per avere la possibilità aspettate mo dobbiamo perdere un po di tempo insieme perché io devo cercare di beccare eccolo allora aspettate devo arrivare proprio al tallone eccolo qua aspettate eccolo qua li vedete i segni li vedete i segni della 3000 insomma ho preso una sintetica apposta apposta per farlo vedere bene quindi vedete come si riesce ad arrivare a fare proprio la la curva a prendere tutto il tallone quindi facendo pressioni differenziate io posso andare laddove mi serve ok facciamo facciamo un altro esempio estremo adesso invece andiamo sul sulla punta quindi stesso gioco stessa identica posizione ok cerco di lavorare qui nella parte bassa che c'è meno segno di matita quindi mi metto tranquillo e questa volta le famose dita che fanno pressione guarda le vedete subito come partita qui ecco forse questa questa immagine migliore dell'altra guardate guardate eppure non è che dice tocca solo qui il rasoio il rasoio tocca tutto questo qua sta appoggiato però vedete su una pietra bianca sintetica ripeto poi nani nano un 3000 quindi una pietra che mangia perché mangia vedete sul bianco subito come si vede adesso andiamo a fare lo stesso giochino sotto il microscopio cercando però questa volta di inquadrare la punta vediamo 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 aspetta che non è facile eccolo non è facile aspettate che non riesco a capire dove sto eccola qui anche qui le vedete ne ho fatte pochissime però le vedete 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 quali sono aspetta vediamo se riesco con il mouse a farvele vedere queste qui in diagonale questi sono i segni della nanon della 3000 quelli orientati in modo diverso sono i precedenti però li vedete si riesce ad arrivare tranquillamente fino alla fine ci siamo allora adesso non vi sto a fare tutti quanti i passaggi al centro ma comunque è il principio dell'affilatura con pressioni a zone laddove mi serve vada esercitare pressione sempre nel caso del tallone può abbassare il pollice quindi magari abbassare il pollice e aiutarmi con questo per evitare che il rasoio si alzi che qui sto facendo un po di pressione quindi il pollice spinge e l'indice mi serve per accompagnare quindi adesso sto facendo pressione di qua poi posso fare sulla punta ma posso anche andare al centro e fare solamente questo quindi pressioni differenziate pressioni che sono in proporzione sono funzionali sono funzionali alla molatura più la molatura è spessa più la lama è piena più posso permettermi una maggiore pressione più la lama è molata vuota l'acciaio è flessibile la misura perché un conto è la flessibilità che ha un 6 ottavi un conto è la misura di la flessibilità di una lama 8 ottavi per non parlare di quelle più grandi quindi più la lama è alta e scavata meno pressione devo mettere devo fare maggiore attenzione più la lama è bassa e con molature piene allora posso aumentare la pressione di quanto la devo aumentare ripeto io non ve lo posso dire ognuno deve trovare il suo punto io vi consiglio di fare tanta pratica con rasoio da due euro prima di mettere le mani e cercare di correggere magari un rasoio vintage che ha la sua la sua storia ragazzi mi ero preparato tante pietre tante cose per farvi tanti esempi lo zucco li carasci e il microscopio però siamo arrivati a 36 minuti io penso che per dare una rinfrescata all'idea su movimenti e pressioni da fare in condizioni normali in buone condizioni e movimenti e pressioni da fare in condizioni di chiamiamolo restauro di correzione ecco non mi veniva la parola penso che si sa capito non avete notato il cerchietto in correzione non l'ho proprio messo in correzione bisogna andare in modo rettile o in modo concentrato solo sulla zona che ci interessa poi una volta rispianato il tutto mi ero preparato il foglio di calcolo per far vedere perché non sentite tante non sentite pure uno che dice non si riesce a filare sto rasoio aspettate non si riesce a filare sto rasoio ma qua la geometria è andata allora ti conviene lavorare a costa alzata come se fosse un coltello dico ma sotto specie de bertuccio urlatrice no perché poi uno finisce gli aggettivi ma come si fa a consigliare una persona di affilare a costa alzata cioè già è difficile mantenere un angolo uniforme su un coltello che ha una lama una sventola grossa così e poi parliamo di angoli di taglio angoli di bevele oltre i 20 gradi ma su una lama così corta da due centimetri dico ti rendi conto che una minima un millimetro di movimento corrisponde al cambio drammatico di quell'angolo hanno inventato i nastri edico usiamo il nastro ecco il motivo per cui mi ero preparato vedete questa cioè il nastro ho segnato 0 19 quindi un nastro telato perché altrimenti è molto di meno allora mettendo un giro di nastro telato già un angolo da 17 3 passa 18 4 più di un grado che aumenta con un giro di nastro con due giro di nastri arriviamo a 19 5 da 17 3 allora non diamo i consigli a ad capocchiam non ci posso manco pensare a fila a costa alzata metti un nastro no perché vai lì c'è quello che mi stava sfuggendo lì stanno le moda no perché farvi dire che uno sa affilare a far vedere che uno è del mestiere c'è anche il rifiuto del nastro non si affila con il nastro io affilo senza nastro tutte embriaghi con la gazzosa e nessuno d'avvisato vabbè basta l'ho detto che mi volevo tenere polemica ma basta dopo 40 minuti neanche ai polemici ci sarà modo tanto sti personaggi escono fuori sempre dal mazzo come il coniglio cindri silvano ogni tanto tu non lo sai guardi le pop esce fuori il coniglio su scusa ragazzi oggi abbiamo parlato di movimenti sia per chi principia sia per chi ha già principiato mettiamola così spero non aver rotto le scatole più di tanto ma i saluti li faccio veloci 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 perché io sinceramente oggi a 40 minuti non ci sarei voluto arrivare quindi un salutone a tutti quanti un ciao popolo a tutti i guanti e ci vediamo prossimo video ciao popolo